Buongiorno, grazie di essere intervenuti a questa manifestazione di presentazione del corso di laurea magistrale. Voi sapete che il nostro corso di laurea magistrale è attivo da diversi anni e voi che siete qui presenti, in maggioranza avete frequentato il nostro corso triennale, quindi in parte conoscete le strutture, conoscete i docenti, però quello che va specificato in generale al momento dell'ingresso in un corso di laurea magistrale è che i corsi di laurea triennale che sono stati istituiti in base alla formula 3 più 2 sono intesi a dare una prima preparazione di livello universitario in grado di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro più velocemente, ma specialmente per un corso di laurea, per un curriculum come quello delle scienze e della comunicazione è altamente, a nostro avviso, consigliabile integrare il corso triennale con un diploma di tipo magistrale. E questo fatto del diploma magistrale chiaramente comporta l'idea che voi prendiate in considerazione questa opportunità di completare la vostra carriera universitaria, tanto con la nostra offerta formativa, tanto con altre offerte formative cui pure potete rivolgervi. Del resto anche i nostri iscritti sono, diciamo, in una percentuale, seppur minoritaria, diciamo, composti da studenti triennali che non provengono da scienze e della comunicazione di Varese. Detto questo, io entrerei un po' nel merito della presentazione del corso di laurea tramite queste slide che ho qua. Perché iscriversi? Ecco qui abbiamo preparato un cartello in cui abbiamo evidenziato alcuni motivi, ma a differenza della laurea triennale che voi avete vissuto e affrontato e superato, noi siamo qui di fronte a qualcosa di diverso. Cioè, la scienza della comunicazione l'abbiamo immaginato, eppure viene immaginato come una laurea erede un po' della tradizione dei corsi umanistici che ha un'ossatura fortemente improntata sull'insegnamento, sul dotare, diciamo, i nostri studenti di un bagaglio di carattere umanistico e contemporaneamente arricchire questo bagaglio umanistico di diversi input, di diversi stimoli di tipo tecnico e di tipo innovativo, per cui si cerca di affrontare il tema della comunicazione e dell'interazione con i diversi corpi sociali e con la circolazione delle notizie e delle informazioni da varie prospettive, come vi siete accorti, che possono essere appunto l'aspetto del cinema, della televisione, della letteratura, dell'arte. Accanto a questo, chiaramente, voi avete visto che perciò c'è anche un aspetto poi profondamente linguistico e per quanto possibile anche abbiamo dato anche di recente un arricchimento da questo punto di vista introducendo, per esempio, degli avviamenti, ecco, la lingua tedesca, oltre che la lingua spagnola, che voi al momento dell'iscrizione avete pure potuto affrontare nel vostro corso di studi. Il punto, invece, della laurea magistrale è spostato sulla specificità. Cioè, noi abbiamo delineato un percorso più specifico quando è stata istituita molti anni fa e questo percorso specifico aveva uno sguardo particolare alla prospettiva del giornalismo. Del giornalismo, ovviamente, declinato sotto tutti i suoi aspetti, per cui il giornalismo classico, il giornalismo televisivo, il giornalismo dei nuovi media. Allora, noi abbiamo qui di fronte una sequenza di insegnamenti che sono tutti modulati, calibrati su questa prospettiva. All'inizio era anche... L'idea era appunto di dare un bagaglio che potesse portare alla fine, oltre alle competenze generali che vengono date, nella formazione di un tecnico operatore della comunicazione capace di gestire i vari aspetti della comunicazione e delle scienze della comunicazione, era l'idea e delle tecniche della comunicazione. L'idea era quella di fornire un bagaglio culturale sufficiente per poter superare la prova per la missione all'ordine dei giornalisti. Abbiamo anche cercato di prendere degli accordi perché questa interazione con l'ordine dei giornalisti giungesse a buon fine. Poi, per motivi vari legati alle vicende dell'ordine dei giornalisti, non si era riusciti ad arrivare a un risultato soddisfacente. Devo dire che di recente, essendo cambiati i vertici dell'ordine dei giornalisti, è probabile che qualcosa cambi. Abbiamo avuto proprio di recente delle notizie, purtroppo non posso esplicitare qui apertamente questo fatto, ma è probabile che a breve avremo una notizia collegata direttamente già con questa corte, come diciamo noi, di iscritti al corso di laurea magistrale di scienza della comunicazione. Per cui, in conclusione, questo nostro corso permette appunto di formare professionisti in grado di svolgere un lavoro intellettuale, culturale e creativo, in maniera più intensa e anche più specifica, un approccio multidisciplinare e interculturale ai nuovi linguaggi che il settore terziario oggi richiede. Ecco, e quindi qui per tesoro del terziario, ma chiaramente non è che si... Ho detto, è tutto compreso, ovviamente noi abbiamo impostato l'aspetto in una prospettiva del giornalismo, ma come sapete l'organizzazione di un ufficio comunicazione comporta delle competenze, delle capacità che in parte sono simili a quelle degli addetti stampa, la capacità quindi di sapere elaborare. La notizia è il fatto di trasformarlo in un pezzo di informazione da poter trasmettere agevolmente e che possa saper rispondere alle esigenze e propagandistiche e pubblicitarie e di circolazione dell'informazione. Acquisizione di competenze e professionalità tecniche in sintonia con la rapida mutazione avvenuta nelle forme comunicative contemporanee. Il sito web vi illustra, come sapete, la durata di due anni perché completa il ciclo quinquennale. Qui ripete la questione che vi esponevo prima, sul fatto che fondamentalmente noi abbiamo cercato di dare questo tipo di impronta e voi, intanto, scienze tecniche della comunicazione vorrebbe dare anche il, diciamo, delle aspetti, abbiamo assunto la parola tecnica, più applicativi. Però tenete conto sempre che questi tipi di laurea presuppongono che voi già, mentre state studiando, cominciate a crearvi una rete di rapporti, e qui sotto vari punti di vista noi abbiamo la possibilità non solo tramite lo stagio ma tramite una serie di iniziative che vengono fatte dai diversi docenti di potervi mettere in contatto con diverse realtà. Questo è stato fatto nel passato e noi ci teniamo a precisare che vorremmo che proseguisse nel futuro. Qui vedete il pubblicista era stato messo primo perché, appunto, era la nostra prospettiva. Voi sapete che per fare l'esame per il pubblicista bisogna frequentare dei master molto costosi oppure bisogna fare il cosiddetto praticantato. Quindi l'idea che il nostro titolo potesse essere o possa essere equiparato era un colpo notevole. Attualmente è equiparato il bagaglio culturale che noi forniamo, però questo non sostituisce il praticantato o titoli che vengono riconosciuti dall'ordine dei giornalisti per la missione all'esame da pubblicista e da professionista. Però il punto nostro è cercare adesso, forse in futuro, di poter dare anche questa cosa in più. Comunque, al di là di questo, ci sono tantissime altre professioni che vengono qui elencate. Una su cui abbiamo cercato di puntare di recente è quella anche appunto del redattore di testi collegati col mondo dello spettacolo che è una professione che comunque ha una richiesta notevole. Noi già nella magistrale vorremmo dare questo tipo di impronta e anche nella triennale per il momento con un laboratorio che forse avete già in parte visto che era quello di di un professionista, di un grande autore televisivo di programmi famosi sia delle tv nazionali, di Mediaset e della Rai che ha deciso di collaborare con noi. Quindi anche su questa linea dal punto di vista laboratoriale ma probabilmente e anzi è in progetto che noi faremo delle iniziative specifiche dei seminari, delle giornate ad hoc di studio per rilanciare questo aspetto. Quindi anche questo che pure era compreso all'interno delle competenze che già avevamo diciamo sciorinato all'interno del corso di Laro. Qui vedete il piano di studi quindi il manifesto e il primo anno è stato strutturato in maniera abbastanza articolata in modo che avete delle scelte piuttosto ampie e ovviamente come vi sarete accorti che il primo anno della triennale di solito non si deve fare delle scelte quindi è diverso se si ritiene che voi siete già in grado comunque di compilare di fare delle scelte di compilare un piano di studi il primo anno della triennale tranne adesso di recente la scelta fra l'opzione dell'avviamento la lingua tedesca e la lingua spagnola di solito sono tutti esami obbligatori qui gli esami obbligatori restano due quello relativo insomma alla competenza della lingua 1 dell'italiano e quello della deontologia professionale diritto dell'informazione che appunto era un esame essenziale per la questione della missione all'esame per l'ordine dei giornalisti per il resto vedete che ci sono varie abbiamo scienza fantascienza di media una letteratura che già c'era editoria e stili della comunicazione comunicazione traduzione intercultura che vengono alcuni di questi sono nuovi come comunicazione traduzione intercultura abbiamo un nuovo docente che che ha acquisito delle competenze in campo diciamo della traduttologia col mondo diciamo col mondo mitteleuropeo abbiamo poi il solito English for Journalism che conoscete l'approfondimento diciamo linguistico offerto dalla professoressa Vicentini per la specialistica poi filosofia politica società e media storia e media e abbiamo vedete qui introdotto anche questo questo corso ovviamente è a scelta che senso ha archeologia archeologia è uno di quegli aspetti applicativi quindi la descrizione del fatto dell'evento che viene trasformato in una notizia dell'evento che può essere un evento fattuale ma può essere anche un evento storico artistico legato al territorio perché chiaramente la comunicazione legata al turismo legata ai beni culturali e ai beni ambientali diventa sempre più un fattore di interazione con le realtà produttive le realtà che diciamo le richieste che vengono dal mondo del lavoro quindi anche questo siccome fra l'altro questo comporta anche la situazione di un laboratorio in cui si trasforma una conoscenza specialistica di fatto non è più una questione teorica ricordate nella triennale studiavate come dalla scienza si può passare cioè dalla comunicazione scientifica si può passare alla comunicazione divulgativa in sostanza qui invece proprio lo fate dal dato scientifico si passa come si trasforma questo dato scientifico in una notizia fruibile dal punto di vista dell'informazione diciamo diffusa sul territorio e fuori dal territorio e ovviamente ci colleghiamo a un tipo di realtà archeologica che è qui rappresentata nel nostro territorio varesino poi simbolica della comunicazione politica metodologia della formazione continua e storia dell'integrazione europea e questi che sono tutti insegnamenti più o meno di carattere filosofico ma anche di recente per esempio pedagogico questa metodologia della formazione continua è un insegnamento di tipo pedagogico quindi anche un'idea di come a un certo punto la comunicazione voglia dire creare un ponte ecco fra nelle diverse competenze una continuità di formazione quindi l'idea che ci possa essere un aggiornamento costante delle proprie conoscenze quindi questo tipo di tecniche abbiamo ritenuto di recente di introdurle all'interno del professionista della comunicazione poi ci sono insegnamenti a scelta come storia del giornalismo storia società media e scienze moderne questo è il secondo anno e così abbiamo ancora comunicazione artistica eventi sociali processi comunicativi e altri diciamo come linguaggi televisivi crossmediali storia dei linguaggi politici linguaggio tecnico della comunicazione massmediata ovviamente altre attività formative obbligatorie si lascia l'esame a scelta libera e così anche per la prova finale come vedete qui i crediti sono 20 invece di 9 mi pare come per cui vuol dire che ci sospetta che una prova finale possa essere di carattere diciamo così compilativo ma anche che contenga qualcosa davvero di originale rispetto alla sapete no alla tesi di laurea triennale che ha un valore abbastanza importante ma rispetto a questo simbolico questa diventa la vera tesi di laurea finale dove pure potete metterci una competenza che poi potrete anche spendere immediatamente nel momento in cui poi vi mettete nel mondo del lavoro e quindi vi consiglio sempre ecco da questo punto di pensare bene alla tesi di laurea specialmente della magistrale ecco ecco queste poi qui ci sono le statistiche di Alma Laurea che comunque sono presentate sul sito di Alma Laurea adesso io rapidamente ve le faccio vedere quindi riguardano l'occupazione occupazionale il numero di intervistati è abbastanza esiguo perché chiaramente nella triennale i numeri vi accorgerete che sono piuttosto rispetto alla massa che adesso si accresce sempre di più fortunatamente nella magistrale anche qui abbiamo avuto una crescita costante nella triennale scusate abbiamo avuto una crescita costante nella magistrale e tuttavia come si dice ecco hanno una qualche significatività questi dati relativi al tasso di occupazione io dico sempre quando presento questi dati anche col professor Gaspari il nostro presidente del corso di laurea che è chiaro che noi dobbiamo tenere anche conto il tipo di territorio in cui viviamo che di solito rappresenta un volano per questi dati dell'occupazione io invece intendo sempre lanciare un monito agli studenti che affrontano corsi di laurea come il nostro che devono essere in grado poi di saper giostrare all'interno del corso del mondo del lavoro a essere versatili da questo punto di vista quindi avere la capacità di sfruttare molto l'opportunità di apprendimento che viene proposta voi potete appunto avete un'offerta formativa potete coglierla a vari livelli quindi a vari livelli potete avere un'interazione col docente a vari livelli qui ancora di più che nella triennale quindi sta a voi scegliere voi potete superare un esame con 20 25 potete superarlo con 30 lode però anche il punto di interazione di richiesta di contatto qui è più facilitato dato il numero diciamo limitato e dato la prospettiva diciamo tecnica che noi vogliamo mettere nei nostri alla fine poi anche qui come sapete potete accedere ai diversi laboratori seminari vi ne ho nominato uno ma ce ne sono altri e sono continuamente in mutazione qual è la nostra politica sui laboratori seminari è ricogliere l'input che vengono per esempio a un certo momento la questione del grafica multimediale abbiamo introdotto un laboratorio di grafica multimediale che poi diventerà magari un insegnamento la questione in parte dell'input in parte delle opportunità la questione sull'autorship televisivo quindi imparare a diventare autore televisivo autore dello spettacolo che è molto richiesto in realtà perché come si dice sempre quanti titoli uno non è diventare per forza autore ma ci sono una serie di figure intermedie di collaboratori eccetera e in realtà c'è una richiesta programmi televisivi nazionali e anche non nazionali quindi c'è una gran richiesta e su questo punto anche vorremmo spingere e così abbiamo cercato di volta in volta diciamo arricchire e variare la proposta dei seminari poi c'è la questione delle lingue dei laboratori linguistici delle certificazioni linguistiche e l'aspetto dell'internazionalizzazione che in parte ecco abbiamo avuto modo di avete avuto modo di diciamo di apprezzare anche nel percorso triennale qui ci sono alcuni progetti che ci hanno permesso di portare degli studenti all'estero vuoi con l'Erasmus vuoi con iniziative prese da gruppi di docenti qui c'è stata questa partecipazione alle giornate internazionali del marketing dell'università c'è il Master Philips che da molti anni ormai opera con gran successo e utilità per i formatori interculturali che è una linea praticamente parallela che può essere felicemente intrecciata con quella del percorso della triennale della magistrale scusate ecco quindi poi ci sono vari altri esempi insomma di seminari conferenze che abbiamo fatto e il mondo del lavoro lo stagio qui c'è soltanto una piccola rappresentazione di una serie di di realtà del mondo del lavoro del mondo della politica del mondo della produttività con cui noi siamo entrati in contatto e che spesso quasi sempre hanno dato un come si dice adesso hanno avuto una reazione hanno avuto un feedback cioè una reazione positiva rispetto agli studenti che noi abbiamo selezionato ecco va bene adesso io a questo punto vi chiederei se qualcuno di voi vuole venire a fare qualche domanda e così possiamo magari approfondire brevemente e chiudere la presentazione di questa mattina prego ecco mettiti pure qua buongiorno prof io avrei una domanda che magari è stupida però magari può anche interessare io ho frequentato un po' di laboratori seminari all'università e sono praticamente tutti molto interessanti però vorrei capire perché non c'è interazione tra le materie e i laboratori cioè molto spesso i laboratori sono molto più interessanti delle materie e allora mi chiedo il perché di questa cosa grazie poi c'è qualcun altro così poi le raccolgo tu prego buongiorno prof io invece mi chiedevo se potrebbe cioè se potesse spiegare meglio le varie tipologie di materie del corso di laurea magistrale perché non ho capito bene magari grazie benissimo molte grazie per queste domande brevemente io dico è chiaro che alle volte si pensa che il laboratorio possa essere più attrattivo perché il laboratorio è l'applicazione concreta e la materia presenta oltre che l'attuazione concreta anche l'aspetto teorico della questione le due domande sono fuse a seme in un certo modo la teoria è necessaria e noi puntiamo molto su questo perché fornisce gli strumenti critici la capacità critica elaborativa dei dati della realtà con cui poi vi trovate ad operare poi nel laboratorio è chiaro che avete un primo assaggio di quello che farete diciamo operativamente ma qui noi non dobbiamo abbiamo cercato di contemperare due aspetti e in scienze tecniche della comunicazione si chiama così perché e qui rispondo anche la seconda domanda perché proprio diciamo l'approccio teorico viene cerca di essere felicemente contemporato con un'applicazione anche già a livello di diciamo di preparazione di svolgimento degli insegnamenti che vi ho prima illustrato quindi ecco questa è la prospettiva degli insegnamenti e lo schema di base con cui loro vengono strutturati benissimo a questo punto io direi che possiamo concludere la presentazione vi ringrazio grazie a tutti e grazie a tutti Grazie a tutti.